Ciao a tutti, vediamo in questo video tre comportamenti che ti renderanno ambigua e misteriosa. In questo video voglio spiegarti quali sono tre comportamenti che ti renderanno ambigua e misteriosa. Prima però di fare questo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai partecipare con gli abbonamenti base a lezioni mirate e con l'abbonamento seminario online, partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente, quindi vatti abbonare. E adesso veniamo a tre comportamenti che ti renderanno ambigua e misteriosa. Allora, quali sono tre comportamenti che di fatto ti renderanno ambigua, ti renderanno misteriosa e per questo ti renderanno seducente? Allora, intanto tieni presente una cosa fondamentale che se tu non sei ambigua e non sei misteriosa non sarai seducente. Cioè le donne prevedibili, le donne che vengono così sempre disponibili, vengono scartate, vengono considerate come dire, come carne da macello da un certo punto di vista. Non sono, non attraggono gli uomini, sono delle scalcinate che non attraggono nessuno. Cioè, forse un catramista, ma niente di più. Allora, quali sono i comportamenti che invece che ti rendono ambigua e misteriosa? E quindi seducente, affascinante, coinvolgente? Beh, allora il primo è che soprattutto nelle fasi iniziali non devi rivelare niente a lui. Che cosa fai, cosa non fai, meno parli di te meglio. Devi farti vedere un po' sfuggente, un po' poco presente, poco disponibile, diciamo, ad essere, a fare quello che lui chiede, quello che lui vuole. Questo è un qualcosa di molto importante che devi imparare, perché se tu appari eccessivamente disponibile, eccessivamente presente, eccessivamente tutto, non attiri. E diciamo che le cose sono fatte in questo modo, cioè la prevedibilità genera noia. E se tu fai annoiare le persone, le persone tendono a sganciarsi, tendono a non essere più tanto interessate a te. Questo è una regola, è un dato di fatto. Prendine atto, è così e non ci puoi fare niente diversamente. Non è che le cose cambiano e proprio sono le regole naturali del coinvolgimento. Il secondo comportamento che ti dà diversa possibilità è flertare con più uomini contemporaneamente, frequentare anche più uomini. Non è detto che devi fare per forza chissà che cosa, però giocare, diciamo, su più campi, diciamo, non focalizzarti solo su uno. Questo dall'inizio è fondamentale. Cioè tu gioca la partita singola solo quando veramente questo è dimostrato contro ogni ragionevole dubbio di essere la persona giusta, aver fatto, aver preso iniziative. Altrimenti tu frequenta più uomini, parla con più uomini, flerta con più uomini, non dare esclusiva, assolutamente. Ma già dall'inizio, già da subito, non stare a pensare, ma questo è l'uomo giusto, forse... No, 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 tu devi assolutamente frequentare più persone. Questo ti consentirà di disinvestire, cioè emotivamente, tutto su una persona e, tenere aperte più possibilità e anche essere disponibile a conoscere persone nuove. Conosci sempre persone nuove, online, offline, dappertutto. Questa è un'altra regola molto importante, un'altra regola fondamentale, che farà sì che tu tenderai a innamorarti, tenderai a coinvolgerti, tenderai di fatto a incontrare, come dire, persone che potrebbero soddisfare le tue esigenze, ma soprattutto non sarai focalizzato solo su una. Quindi, siccome vale la regola che se tu ti comporti con chi ti piace, come ti comporteresti, con chi non ti interessa, saresti molto più seducente. Incrementerai naturalmente, rapidamente, la tua capacità di seduzione. Inoltre, avendo più appuntamenti, più cose, non darai tutta questa disponibilità e questo genererà ambiguità e misteriosità, diciamo, che sono le basi, come dicevo, della seduzione. E poi il terzo comportamento è il tipico condizionamento operante, il push-pull, cioè dai dei rinforzi, ogni tanto ci sei, ogni tanto sparisci, ti remola, non essere sempre presente, prendi degli spazi in cui proprio non ci sei. Ecco, tutto questo, questi tre comportamenti messi assieme, ti faranno percepire come una donna affascinante, come una donna interessante, sembra strano, ma eppure funziona in questo modo e coinvolge, questo coinvolge e gli uomini ci cascano come pere cotte, diciamo, da questo punto di vista. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, riabbonandoti potrai scegliere tra gli abbonamenti base, con lezioni, diciamo, con dare un sostegno al canale e partecipare alle live e l'abbonamento seminari online, per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!